Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo il retroscena tra Washington e Bruxelles, Meloni, Draghi. Se Giorgia Meloni fosse un altro tipo di politico, applaudirebbe per la fusione a freddo che vogliono fare Lega e Forza Italia e si preparerebbe così a cavalcare queste praterie di voti nel centro moderato e nel centro-destra. Per chi non vuole riconoscersi nella leadership di Matteo Salvini, tutti i forzisti in fuga, ma anche i leghisti che non approvano. Molti osservatori, come anche Crosetto, dice che la leadership di Matteo Salvini è molto caratterizzata, hanno detto anche molto connotato nell'immaginario collettivo. Pertanto l'elettore di centro potrebbe riconoscersi in Salvini, ma potrebbe anche dire no, io non sto in un partito dove c'è capo Matteo Salvini, Berlusconi andava bene, ma Salvini no. Pertanto una parte dell'elettorato di Forza Italia potrebbe correre verso il partito di Fratelli d'Italia. Quindi era proprio Crosetto che diceva molto Salvini è un politico molto connotato nell'immaginario collettivo. Lo diceva in un'intervista quotidiano la stampa. Per quanto Salvini sia bravo, nelle cancellerie occidentali, così come nella percezione pubblica, la sua identità sovranista resta un monolito difficilmente scalfibile o aggirabile. Non è detto che sia un limite, attenzione, potrebbe essere anche un enorme vantaggio. Lui porterà in dote a Forza Italia una massa critica di carisma e voti, non pochi. Silvio Berlusconi ci mette il marchio, il blasone europarlamentare e un consenso necessario a garantire all'impresa un'innegabile solidità. Giorgia non cerca di sabotare questo progetto che pure contraddice almeno in parte il suo ideale di coalizione confederata, non una sorta di federazione protesa alla fusione. Del resto era stata proprio Giorgia Meloni a proiettare sulla scacchiera europea questo piano. Un nucleo popolare effigiato dal Cavaliere, un'ala identitaria di conio eurocritico stretta intorno alla Lega. E in mezzo poi c'è il blocco crescente conservatore che tiene tutti insieme. Quello che vince è proprio questo, un partito unitario di governo al servizio di Mario Draghi e con fratelli d'Italia solitario all'opposizione. Avrà semmai i suoi problemi a trovare un equilibrio in Europa, a meno che Matteo non sia così deciso a cambiare anche sotto questo aspetto, aprendo le vie a figure più moderate nella sua Lega. Dovrà scegliere prima o poi tra Marine Le Pen e Angela Merkel. Diciamo che ci sono in Italia, il contesto politico italiano è ben diverso da quello europeo. Salvini starebbe anche trattando con i fuoriusciti da Forza Italia, quelli che starebbero o sono già andati con Giovanni Totti e Brugnaro nel quel partito Coraggio Italia. Li chiamiamo i coraggiosi, no? I coraggiosi, no? Quelli di Forza Italia sono i forzisti, quelli del PD sono i pedini, i meloniani, i salviniani e quelli di Coraggio Italia sono i coraggiosi, i coraggiosi, ma saranno coraggiosi anche quelli che diranno di votare questo partitello, no? Nel senso ci vuol coraggio a votarli, però insomma ognuno può fare quello che vuole. Intanto diciamo che sebbene la somma di Forza Italia Lega corre il rischio poi di non fare il totale perché il successo iniziale del PDL a trazione moderata è difficilmente riproducibile a fattori invertiti, cioè una sorta di PDL a trazione di destra. La scommessa dei federatori sta grosso modo qui, a metà strada da questo, dal vecchio PDL con quello nuovo. E poi c'è il retropensiero che Giorgia Meloni non possa crescere comunque a dismisura. I più alcuni dicono tra i fratelli d'Italia pronostica uno scenario diverso con una figura come quella di Salvini a capo di una fronte che si pretende moderato. Si aprono spazi al centro e al meridione per vendemmiare pur restando immobili. Chissà. Intanto Meloni resta opportunatamente convinta che la concorrenza interna non può e non deve pregiudicare una logica di coalizione variegata e commisurata alle aspettative di un elettorato più coeso dei suoi leader di riferimento. Pertanto lei ha sempre anche detto che la diversità nel centro-destra va bene, avere idee va bene, uniti ma con idee differenti, non con idee differenti uniti dove tutti devono fare quello che dice una sorta di capo eletto in quel momento. Ecco, perché in questo momento una federazione di centro-destra tra tutti i partiti, compreso quello di Giorgia Meloni, non sarebbe altro che un mega partito dove decide Salvini, un po' come il PDL di Berlusconi. Giorgia Meloni poi fa notare guai di sacrificare il consenso per il potere, sia pure a costo di aspettare. Ma aspettare che cosa? E c'è la variabile Draghi. Ecco, di là dal chiacchiericcio di sottofondo, l'incontro che è avvenuto giovedì tra Meloni e Draghi è la conferma di una speciale relazione da non sottovalutare. L'ex banchiere centrale è rimasto per oltre un'ora in silenzio, incoraggiante e attentissimo nell'ascolto delle proposte provenienti dall'opposizione, da Giorgia Meloni. Ma c'è di più, l'asciutto interesse del tecnico a collaborare con una leader in ascesa dal profilo iperpolitico, con idee nitide, un diagramma di ascisse ordinate che non mutano nella notte al giorno. Nello schema di Giorgia, Palazzo Chigi, chi ci sta è il perfetto protettore che dal Quirinale garantisce in America. Dice, sono qui a rappresentare un mondo, quello dell'atlantismo, ripete lui a ogni colloquio di peso, in Europa e sui mercati. La sopraggiunta maturità di governo di una destra conservatrice che non ha deluso le aspettative. Ma c'è un ma. Draghi pare destinato a non traslocare da Palazzo Chigi fino alla scadenza naturale nel 2023. E l'anno prossimo bisogna eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se Mattarella accettasse una riconferma pro tempore, l'attuare Premier arriverebbe al Colle con un anno di ritardo sul previsto, consegnando a se stesso i poteri speciali, un passaggio e un paesaggio ancora tutti da costruire. Vedremo quello che succederà. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.